L'idea che esistano esseri celesti in un mondo superiore è radicata in molte religioni e credenze spirituali fin dall'antichità. Nella tradizione cristiana questi esseri celesti sono conosciuti come angeli e si ritiene che siano organizzati secondo una specifica gerarchia, ciascuno con una funzione e delle responsabilità. La gerarchia angelica è stata descritta da molti autori nel corso della storia, ma una delle più influenti e conosciute è quella dello Pseudo Dionigi, mistico e teologo cristiano del VI secolo. Per lo Pseudo Dionigi gli angeli sono organizzati in nove ordini o cori, ciascuno con caratteristiche e funzioni uniche. I cori più vicini al mondo terreno sono classificati come i più lontani dal trono di Dio, pertanto hanno meno prestigio. Al contrario, quelli più vicini al trono di Dio sono considerati più elevati. In questo video esamineremo ogni coro nella gerarchia angelica dello Pseudo Dionigi. Questo video è sponsorizzato da Ipsos i6. Riuscite ad immaginare di essere pagati o guadagnare premi semplicemente esprimendo le vostre opinioni? Recentemente ho scoperto questa incredibile piattaforma Ipsos i6, dove potete rispondere a sondaggi e ricevere ricompense immediate per aver condiviso la vostra opinione. I sondaggi sono veloci e concisi. In pochissimo tempo potete rispondere a semplici domande e ricevere punti che potete poi utilizzare per ottenere una delle molte gift card disponibili. Ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere. Personalmente ho scelto un voucher Amazon, che è fantastico, visto che ho sempre qualcosa da comprare nella mia lista dei desideri su quel sito. Ogni volta che avete un po' di tempo libero, potete andare su Ipsos i6 e completare un sondaggio. Sono specifici per il vostro profilo e interessanti, il che li rende un modo divertente per passare il tempo. Cliccate sul link nella descrizione per iniziare a guadagnare premi con Ipsos i6, oggi stesso. Gli angeli fanno parte del coro inferiore nella gerarchia dello pseudo di Unigi, essendo più vicini agli uomini e più lontani dal trono di Dio. La loro funzione è quella di aiutare gli uomini nei compiti quotidiani e di fornire guida e protezione spirituale. Gli angeli sono noti per essere in grado di trasmettere la volontà divina agli uomini e per la loro capacità di aiutare le persone a trovare una vocazione e uno scopo nella vita. Sono visti come esseri sempre disposti ad aiutare gli esseri umani nel loro cammino spirituale, fornendo loro guida, conforto e protezione nei momenti di bisogno. Sebbene gli angeli siano l'ordine più basso nella gerarchia angelica dello pseudo di Unigi, essi svolgono un ruolo cruciale nella relazione tra Dio e gli esseri umani. Gli arcangeli fanno parte dell'ottavo coro della gerarchia angelica dello pseudo di Unigi. Il loro ruolo è quello di consegnare messaggi divini agli esseri umani e di proteggerli dalle forze del male. Gli arcangeli sono noti per aver compiuto grandi azioni e miracoli, sono considerati guide spirituali, messaggeri divini e sostenitori della fede. Nella tradizione cristiana, gli arcangeli principali sono quattro, Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele. Ognuno di essi ha una funzione specifica e qualità uniche. Michele è associato alla protezione, Raffaele alla guarigione, Gabriele alla trasmissione della volontà divina e Uriel all'illuminazione e alla saggezza. I principati fanno parte del settimo coro, hanno il compito di proteggere le nazioni e le comunità e di garantire la giustizia e la pace. La loro funzione è guidare gli esseri verso la salvezza e aiutarli a raggiungere l'armonia spirituale. I principati sono noti per la loro saggezza e la capacità di ispirare, leadership e creatività. Nella tradizione cristiana, ogni principato è responsabile di una specifica regione o nazione, di cui è protettore e guardiano. Sono considerati figure spirituali per i leader politici e le comunità che cercano pace e giustizia. Hanno la responsabilità di aiutare le persone a raggiungere gli obiettivi, garantire l'armonia e l'ordine nelle società e promuovere il benessere generale. Le potenze sono il sesto ordine della gerarchia angelica. Sono angeli spesso associati alla forza spirituale e alla protezione dalle forze del male. Sono considerati mediatori divini che assicurano l'ordine divino sulla terra e proteggono le persone dalle influenze negative. Le potenze sono viste come guerrieri divini contro il male e le forze negative che minacciano l'ordine divino. Sono entità responsabili del mantenimento dell'armonia in natura, del controllo degli elementi naturali e dell'equilibrio della terra e degli esseri viventi. Le virtù fanno parte del sesto coro, incaricato di impartire la forza e la grazia divine agli esseri umani. Sono associate ai miracoli compiuti da Dio. Le virtù sono anche legate agli elementi e possono creare e interrompere fenomeni estremi della natura come tempeste, terremoti e tsunami. I domini sono il quarto ordine della gerarchia angelica. Nella tradizione cristiana le dominazioni sono responsabili della gestione dell'ordine celeste e terrestre assicurando che tutto sia conforme alla volontà divina. Sono visti come amministratori divini che guidano gli altri ordini angelici e trasmettono la volontà divina alle persone. I domini sono spesso associati alla saggezza e alla giustizia divine. Hanno anche la responsabilità di assicurare che le leggi divine siano seguite e che l'ordine sia mantenuto a tutti i livelli della creazione. I troni fanno parte del terzo ordine del coro superiore, il cui aspetto è descritto come a forma di ruota, con molti occhi e ali. I troni sono sempre alla presenza di Dio e hanno il compito di eseguire la sua volontà e di proteggere il trono divino. Il loro compito è quello di trasmettere agli uomini la forza e la giustizia divine e di ispirare l'arte e la musica. Sono noti per simboleggiare la bellezza e l'armonia divine. I cherubini sono il secondo ordine del coro superiore della gerarchia angelica, descritti con quattro ali e un aspetto animalesco, con volti di leone, toro e aquila. I cherubini sono responsabili della protezione della santità e della giustizia divine. Il loro compito è quello di contemplare e meditare sulla saggezza e sulla provvidenza di Dio. Si ritiene che il trono del Papa a Roma sia custodito da quattro cherubini. La loro reputazione deriva dalla conoscenza divina e dall'essere guardiani della creazione. I serafini sono gli angeli più vicini a Dio, descritti come dotati di un amore e di una devozione senza pari per il creatore. Nelle tradizioni religiose sono spesso raffigurati con sei ali circondati da fiamme. Nella gerarchia angelica dello pseudo Dionigi, i serafini sono il primo ordine del coro superiore. Proteggono, adorano e lodano la Santissima Trinità, diffondendo il principio di vita universale e manifestando la gloria di Dio. Hanno poteri di purificazione e illuminazione. Sono noti per la saggezza divina e per la trasmissione della conoscenza e della luce spirituale agli esseri umani. La gerarchia angelica dello pseudo Dionigi è una visione affascinante e complessa dell'organizzazione degli esseri celesti e del loro rapporto con Dio e con gli esseri umani. Il fatto che ogni ordine della gerarchia abbia ruoli e profili unici riflette la vastità della creazione divina. Sebbene la gerarchia angelica dello pseudo Dionigi sia criticata da molti teologi, rimane una fonte preziosa per gli studi religiosi.